Eh, grazie a tutti. Allora, in questo piano rientirsi nella scritta da poco tempo, è una suite, ma io, insomma, ho uno dei pezzi della suite. Hai sentito la Tavalli? Tavalli è uno di un veliero appassionato di vela, che lui, insomma, ha viaggiato tutto il mondo, con questa soffa a calvela, e alla fine non ce l'ha fatta, proprio la stanchezza, l'enorme stanchezza. E tra l'altro c'è un attore che in questo momento sta succedendo in onda, ha fatto 80 anni da poco, l'aiutamento, c'è mio fratello che ha fatto i film sulla patta. Robert Reddo, ha fatto un film recentemente, trasmesso anche in televisione, lui è sicuro vissuto a questa, a questa sua disgrazia, diciamo, invece nella realtà del muore, e vi suonerò questo piano bellissimo, La Valle, tratto da Tavalli, per poi seguire con Michael Nyman, con l'anticipo di Magaia, De Chiano, ancora inglese, questo è un gran progetto di Oscar, e poi continuerò con altri brani di Angus, famosissimi, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.